Arrivano i buoni, arrivano, arrivano, finalmente hanno capito che qualcosa qui non va. Arrivano i buoni e dicono basta, tutte le ingiustizie che finora hanno afflitto l'umanità. Buongiorno con il nostro direttore, siamo in attesa del senatore Augello, del Popolo di Libertà, così come ci avevamo lasciato l'ultima volta che avevamo avuto il nostro ospite per proseguire una conoscenza sempre più diretta di quello che sta accadendo nel Parlamento italiano riguardo a tutta una serie di questioni che credo interessino in maniera particolare i nostri cittadini. So che adesso farò la rabbia arrivano perché una delle cose che chiederemo al senatore Augello è il contenimento della spesa, vedi l'ho detto in italiano, perché l'Irano faceva un'osservazione che condivido, nel senso che chi è attore di questa vicenda, appunto come il senatore Augello per conto del Popolo di Libertà, ma anche chi rappresenta il PD, non diciamo l'Udcic perché secondo quello che dicevano sono d'accordo a priori col governo Monti, è capire proprio riguardo a tutta questa vicenda che riguarda il taglio, il taglio alle spese, il contenimento della spesa e così via con i riflessi pesanti che rischia di avere a livello di risposta di servizio ai cittadini e si vuota una cosa in Parlamento, però poi magari a livello di enti locali, di comuni, di regioni, di gruppi parlamentari, perché no? si manifesta di senso rispetto a quello che poi si va ad approvare. Allora capire anche un po' quello è il taglio proprio politico che per quanto riguarda oggi il PDL con Augello, lunedì avremo, l'onorevole Morassut e io lo chiederemo per quanto riguarda il PD, di chiarirci questa contraddizione, quella su quale lei non ci ha fatto buona parte della trasmissione dell'altro giorno, che è un elemento centrale del dibattito politico di oggi. Sì, io informo più che altro i telespettatori, dopo il dormiveggia di chi era la regia, ecco, che altrimenti parlo io, in quello maestro Rosario, a me questa ormai è una malattia, è una malattia, sì, invece questa è una malattia nei nostri tecnici. Il discorso si allarga, a parte la mia amarezza di ieri, ma che confermo anche oggi, perché non è che io abbia cambiato idea, ma oggi abbiamo il senatore Augello, questa sera ci intratterremo a Caracalla, Augello, sarà realizzata nell'ambito della festa dell'unità, dove ci sarà Montino che parlerà delle promesse mancate, sono tante le promesse mancate. Poi avremo l'onorevole Roberto Morassuta, dove parleremo di urbanistica, di casa, anche del piano regolatore, addirittura che lui ne fu protagonista. Cerchiamo di informare le persone per quello che possiamo. Volevo ricordare ai telespettatori, perlomeno ai nostri amici, quelli che ci seguono, e che mi diano serli non lasciare. Come si fa a non lasciare? Voi avrete seguito le battaglie di questa trasmissione, non soltanto mia, da anni e anni e anni, quando si cerca per forza di fare gli scoop giornalistici, le intercettazioni fuori onda. Ricordo quanto fu detto e fatto contro il povero Mario Di Carlo, che secondo me è venuto a mancare proprio a seguito di quell'attacco del subì. Mario, ingiustamente, per il quale lui se ne fece un fatto personale, proprio addirittura conoscendo l'onestà che aveva Mario Di Carlo, che veniva accostato a certi intrallazzi. Questi sono gli scoop per forza, no? Allora io voglio fare un passo indietro nell'artesia di Ogello, perché non lo coinvolgo. Ma quante volte da questa trasmissione, parlando di parentopoli, io ho citato quanto avveniva all'Università di Roma, con assunzioni di parenti, cugini, cognati e via dicendo. Quante però, in questo momento, lo vedo pubblicato oggi su un giornale, le assunzioni fatte al Cotral. una cosa allucinante, bipartizane. Denunciato, denunciato e denunciato, per anni, per sei anni, sette anni, otto anni. Oggi invece viene scoperto quello che avveniva al Cotra, quello che io, senza voler avere niente contro Lazio Service o Light, compagna Bella, la maniera con la quale era stata assunta una miliade di personale che giustamente, dopo anni, chiedono una sistemazione, una pubblicazione al momento che rischiano il posto di lavoro. Ma quando io lo denunciai, questo fatto qua, se ne fregarono completamente tutti. Adesso invece viene scoperto, no? Quando poi esce un giornale a caratteri a scatola, no? Io ne parlo oggetto nei prossimi giorni, di parlare di presunte assunzioni da parte di un attuale assessore, quando quest'assessore, la moglie, era già dipendente da prima che lui facesse il consigliere comunale. Sono quelle cose, quelle cose talmente assurde e si è batta una pagina di un giornale, addirittura, come se si parlasse di Reina o cose del genere, l'ho montata in aria, quindi in attesa, io l'ho invitato in trasmissione perché è sempre venuto in trasmissione per precisare delle cose, ma aspettiamo giustamente il procedimento che sarà ad ora, però si è inteso invece creare questo polverone, no? Quando io ho citato addirittura le assunzioni fatte in regione, non in questi anni, non in questa amministrazione, né nella precedente amministrazione, a qualche altra istituzione regionale, fatte a Bifartisan sempre, tu possi a te, tu possi a me, sembra che qualcuno, io questa lotta la sto facendo da anni, ma non hanno mai voluto trovare la soluzione, le liquidazioni che prendevano tutti i manager, perché i direttori sono tutti deficienti, allora dobbiamo prendere tutti i manager, ma sono 40 anni che io le dico queste cose, lo dicono i colleghi in questi giorni, e allora che cosa vuoi fare di fronte a questo egoismo? Guardate questa storia del buono casa, ma sapete che io ancora non ho la risposta? Non ho ancora la risposta, gli ho detto ma scusate, come fate a fare un bando se non ci sono i soldi? L'ho chiesto al governo, l'ho chiesto alla regione, l'ho chiesto al comune. La cosa grave è che chi poi dovrebbe avere la responsabilità di saperlo, non lo sa. Allora ecco quello che mi angoscia nel condurre questa trasmissione, e io ho detto ma le persone per bene e oneste esistono sia da una parte che dall'altra, non è che un partito ha scritto il Vangelo e quell'altro ha scritto i salmi, non riesco a trovare spiegazioni, però dato che vi faccio perdere tempo, e sto facendo perdere tempo anche voi che ci ascoltate, prendiamo le prime telefonate in attesa che viene a Ogello, noi cercheremo anche, e questo ne parlerò perché ho invitato anche per la settimana prossima l'Onore Angelilli per parlare dei fondi europei, dei fondi europei che l'Italia... La vicepresidente del Parlamento italiano, del Parlamento europeo, per chiedere proprio come vengono distribuiti questi fondi europei, soprattutto se poi vengono utilizzati, se vengono utilizzati o perlomeno vanno che vi posso dire al Portogallo, alla Spagna o alla Grecia, dovevi fare perché noi non siamo capaci di utilizzarli, perché non siamo capaci di utilizzarli, perché non abbiamo la possibilità di presentare dei progetti, perché non presentiamo dei progetti, perché non ci sono i soldi per realizzare i progetti, allora di fronte a queste cose... La cosa grave qual è, adesso lo tirate a Lazio, è che ogni regione ha la sua ambasciata, tra virgolette, presso Bruxelles... Anche il Lazio? Sì, anche io ho detto, non solo il Lazio, perché poi non è che uno se la comprende soltanto con quelli di casa nostra, perché riguarda la Lombardia, la Calabria... Guarda i signori dal nord, quanti finanziamenti prendono dall'Europa e li utilizzano. E li utilizzano, certo. Adesso sembrerebbe che c'è un'iniziativa da parte della regione che si faccia un assessorato, che ogni comune abbia dentro un assessorato, una delega, che si occupi di sapere se ci sono i finanziamenti in Europa. Cioè, ci sono voluti 30 anni... Il fatto l'abbiamo sempre detto, sono le prime telefonate. Pronto? 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 Buongiorno, Dottor Celli. Buongiorno, Dottor Marto Lottato. Buona serata. Dottor Celli, tanti e tanti auguri per i tre e quattro giorni passati. Un'altra 80, bastano, spero di sì, 80 bastano. Adesso non lo ho postato. Un'altra 80. Senta, Dottor Celli, gentilmente mi deve rispondere. Allora, io sono un pensionato, fortunatamente, 62 anni, sono da 5 anni in pensione. Allora, lei deve sapere che come c'è qualcosa da ridare di conguaglio di tassa regionale, subito, tac! E io sto pagando dal 1 gennaio fino al 1 novembre 35 euro al mese. Allora, lei mi deve spiegare ieri a che cosa è servita tutta quella processione all'aeroporto di Ciampina da prendere quella là. Lei me lo deve spiegare. Quanto c'è costato? Macchine, servizio, vigilanza. Lei me lo deve dire a che cosa è servito. Va predicando sacrifici, il nostro conto e poi lui è il primo a mettersi davanti alle televisioni. Grazie, Dottor Celli. È dura, è dura dare una spiegazione. È chiaro che abbiamo riportato una cittadina italiana che purtroppo nove mesi è stata là. Adesso la presenza del Presidente del Consiglio la considero anch'io superflua insomma addirittura non scommodiamo addirittura il capo del governo ma in tutti i modi io vorrei che la stessa tenacia con la quale abbiamo voluto riportare questa ragazza giustamente che sicuramente ci è costata ci è costato e si metta per i nostri due ragazzi militari perché questo è un abuso internazionale allucinante perché premetto innanzitutto io metterei sotto inchiesta se fossi io il governo sotto inchiesta il comandante di quella nave perché lui era in acque internazionali e probabilmente anche l'armatore e probabilmente anche l'armatore non solo ma le comandante della nave sicuramente non c'è dubbio non c'è dubbio però io quel signore lo metterei proprio lo carcererei lo carcererei immediatamente perché lui ha permesso lui ha permesso che la sua nave entrasse in acque territoriali indiane e quindi ha scatenato tutta la cosa quindi il problema è quello quello che adesso si sta facendo ricorso all'altra corte di giustizia per evidenziare questo fatto perché giustamente qualche mese fa qualcuno disse sulla vicenda degli aerei dell'aereo americano al nord la funivia e tutto quanto gli americani non ci hanno pensato per niente perché anche se era territorio italiano hanno detto agli italiani guardate state fuori da una parte voi non c'entrate niente se li sono portati in America l'hanno giudicati non l'hanno giudicati però l'hanno fatti rientrare quindi se questi due ragazzi avessero ammesso non concesso commesso dei reati la legge dice che non c'entra la nave non doveva entrare in acque territoriali e io vorrei che la stessa cosa la stessa cosa lo stanno facendo secondo me lo stanno facendo dolcemente ma poi mi domando che cosa fa l'ONU che cosa fa l'ONU che cosa fanno le Nazioni Unite che cosa fa l'Europa perché non ci doveva essere una decisione soltanto del governo italiano ma era in acque territoriali internazionali e quindi non era non si doveva permettere non si doveva permettere poi magari farli giudicare anche dalla Corte Suprema secondo il corso italiano il diritto internazionale purtroppo è così è così io domando pure io che conosco la solidarietà e che predico la solidarietà non la penso come basta le concertazioni perché le cose io visto che i tempi degli orazzi e i curiazzi sono passati da qualche giorno allora è chiaro che la concertazione è la cosa che non è quindi non accetto dal governo basta alle concertazioni perché fortunatamente anche a costo di migliaia e migliaia di morti abbiamo conquistato la democrazia e quindi non c'è un dittatore che dice decido io le concertazioni hanno dimostrato nel corso dei decenni di dare risultati positivi di governare senza tensioni il paese ma è contro la costituzione non alla concertazione è contro perché altrimenti dovrebbero sparire anche i sindacati perché basterebbe uno che dice no si fa così e andate tutti a casa l'altra telefonata pronto? Dottor Celli però prima di dire le cose dovreste dire bisognerebbe approfondire se lei mi permette io qualche volta approfondisco qualche volta non tutti i giorni dipende che tempo fa la nave italiana è stata circondata da moto vedette indiane e perciò non poteva fare altro che quello che ha fatto con questo con questo io a lei la devo sempre io a lei la devo sempre interrompere guardi e la devo e la devo e la devo e la devo che viene un giallo in aiuto per il semplice fatto le sta dicendo una cosa inesatta e lei dato che fa delle belle premesse ma che non ci azzeccano niente con le premesse la nave italiana che è stata circondata questa è fantasia questa è fantasia il comandante di quella nave è stato invitato a portare la nave in acque indiane è chiaro quindi altrimenti schiediamo le porte aeree allora non sono non è lei che mi deve dire che bisogna riflettere io rifletto ma comincio a mettere in dubbio che lei riesca a riflettere prima di dire le cose inesatte ad ogni modo prego non volevo parlare di questo e lei fa una premessa che mi offende e quindi perché mi dice a me di approfondire perché dire prima se lo devo approfondire lei prego si come si chiama il radio della 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 marina si ha ho avvisto chiaramente la nave non c'è più a reggio marina vabbè ad ogni modo senta quando si parla come lei dice giustamente di tutte queste cose che in Italia non vanno si si incomincia a coltare il padre e la madre di tutto questo allora guardi io ho dato padre e madre guardi e mi è buon testimone Andrea Ugello anche già sottosegretario che dato che lo conosco da qualche giorno no no adesso glielo spiego con l'onore di contarlo anche io quando io ho parlato del COTRA le assunzioni clientarie il COTRA ho citato anche di chi era l'amministrazione anche di chi ha fatto quelle assunzioni e ho parlato anche di cose di partizze ma guardi l'università l'università è in mano a frati a frati è in mano al partito comunista non manco per niente guardi oltretutto guardi conosco validissimi insegni professori universitari che non sono per niente comunisti comunque ci abbiamo altre telefonate pronto? 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 che è successo? è caduta? è caduta allora io ieri mi sono permesso di fare una piccola analisi perché sono stanco Andrea stanco perché non riesco a seccarci niente proprio non ci capisco più niente ti dico l'ultima banalità e tu me ne sei poi un testimone perché ho predicato anche con te per farmi dare no a me i soldi del famoso buono casa tutti dicevano è una banalità allora che succede? il governo dice io non ho i soldi da dare alle regioni io ho chiesto anche a te non ce l'ho il governo non l'ha stanziati beh non avendoli stanziati le regioni non hanno i soldi non avendoli le regioni non ce l'hanno i comuni l'altro ieri una settimana fa prendo un bando scadenza delle domande 10 settembre per il buono casa 2011 2011 2011 sì i soldi non ce l'ho allora dico forse sono sbagliato allora ricomincio la scalata rompo le scatole alla tua segreteria ma per caso negli emendamenti avete no non ce l'ho i soldi noi capiamo la regione chiamo l'ecetica dico no io non ce l'ho i soldi chiamo il comune noi i soldi non ce l'abbiamo scusa l'ha fatto il comune e su internet capite i cittadini sono invitati a formulare la domanda scadono le domande e il 10 settembre la domanda di che se non ci sono i soldi allora dato che sono sempre osservante dell'istituzione chiamo il presidente della commissione bilancio del comune di Roma dico scusa il comune di Roma ha emanato questo bando dove c'è le domande dice no come no e c'è l'ho il bando ma no non c'è nessun bando e no tuo bando allora l'ho presa la fotocopia la copia e gliel'ho mandato dice no noi i soldi non ce li abbiamo e noi non mi fanno a far il bando e dice io non ne so niente se per dire mo vogliate al Papa vogliate al Ratzinger dico perché avete fatto un bando dove i soldi non ce li so ma non l'ha fatto il presidente della commissione l'ha fatto il comune e io l'ho presa col comune infatti io ho preso il comune però visto che è il comune non è che ritorna ai tempi del gerace del famoso censimento no perché il comune lo sai però non vorrei che fossero delle delle rimanenze perché il comune non vorrei che avesse fatto un bando differito perché ha avuto dei ritorni per i ritorni dei trasferimenti no no perché non ha proprio pagato devono pagare ancora il 2009 devono ancora finire di pagare quello per il 2009 non sono in grado ma ti dico adesso un poveraccio come me che deve fare questa trasmissione che riceve 100 telefonate a dire Selli ma tu hai detto che i soldi non ci sono e questa è un'assurdità però nel parlare un momentino di politica ma come riusciamo a conciliare la regione sta agendo su imposizioni governative imposizioni governative governo sostenuto dal PDL sostenuto dall'Udc sostenuto dal PD l'opposizione della regione fa opposizione diciamo ma perché Volverini applica questa rivolamente ma l'ha imposta il governo che sostiene di te allora scusa ho fatto anche il sottosegretario ma la devi spiegare questa cosa perché non riesco più a capirla hai capito ho fatto è una cosa facile da capire purtroppo che cosa succede succede che qualche volta come tu sai si fa affidamento sul fatto che la gente non sia informata tutto qui questo è il problema vero purtroppo c'è un cattivo gusto nel fare politica per cui alcune persone pensano che si possa investire sul fatto che magari la gente non è molto informata e magari non sappia che alcune risorse vengono meno perché nel dramma della situazione in cui noi ci troviamo a livello internazionale vengono tagliate le risorse e ovviamente i partiti che lo sanno benissimo perché votano queste manovre in Parlamento poi magari si trovano l'opposizione nelle regioni e fanno finta che sia colpa delle giunte regionali purtroppo in realtà la spiegazione è molto banale ovviamente senti Andrea ma una cosa dato che di esperienza politica ne ha dato io faccio una domanda a te ma che succede succedono molte cose diciamo che le cose più importanti che stanno succedendo in questo momento sono che noi avremo un'estate veramente difficile e quindi l'avremo difficile non per colpa degli italiani né per colpa né di questo governo né di quello precedente né anche di quello ancora prima tanto così abbiamo chiarito le cose avremo una situazione difficile perché noi viviamo in un momento in cui la durezza con cui alcuni paesi europei si ostinano a non voler avviare provvedimenti che rassicurino gli investitori ma non è cognome la Germania ma adesso lo sai che non è solo la Germania perché sono entrati in ballo anche altri paesi nord europei che sono entrati in maniera ancora più dura addirittura hanno sconfessato l'accordo che ha fatto la Merkel con Monti quindi questa situazione rischia di metterci in grande difficoltà tutta l'Europa nei prossimi nelle prossime settimane e quindi secondo me c'è poco da fare gli spiritosi in questo momento cioè in questo momento noi dobbiamo prepararci a un'estate più dura di quella dell'anno scorso e dobbiamo lottare con i denti perché non si crei un deficit attraverso la speculazione sui nostri titoli e dobbiamo dare parole rassicuranti anche se da un momento io posso come dire scrivere un agile manuale intitolato 100 buoni motivi per avercela col governo Monti però è un momento in cui sulla percezione personale politica di parte deve prevalere la difesa intanto dei più deboli che ovviamente sono gli che pagano per primi dei nostri giovani che non devono andare a infoltire un esercito disoccupato già troppo grande dei nostri titoli di Stato che non devono costare con uno spread che potrebbe arrivare a raggiungere di nuovo quota 500 nelle prossime settimane quindi superare quota 500 nelle prossime settimane che sarebbe la situazione che c'era quando fu messo Monti quindi questa è la realtà se no ci prendiamo in giro ora noi non dobbiamo mai prendere in giro le persone quando c'è un'emergenza quando la casa va a fuoco si sta tutti spalla a spalla e si spegne l'incendio poi il resto si discute dopo però noi dobbiamo intanto superare queste state perché ci sarà un momento difficilissimo difficilissimo che dobbiamo affrontare tutti insieme noi siamo in Parlamento stiamo cercando di attenuare sia sulla spread di review sia su altre questioni un'impostazione a volte troppo precipitosa troppo eccessiva il rigore è una cosa dico sempre io il rigorismo è un'altra sono due problemi diversi il rigorismo è un'accetta è un'accetta che cala senza criterio sulle cose il rigorismo il rigore è la capacità di capire quando l'accetta può colpire la carne della povera gente e spostarla altrove questa è la differenza tra le due cose dobbiamo fare questo dobbiamo farlo tutti insieme dobbiamo farlo anche con con l'umiltà di spiegare alle persone quello che sta succedendo che immagini ci stanno devo dare una notizia perché mentre noi stiamo parlando c'è una collega che sta andando in Campidoglio dove c'è un incontro Alemanno Bondi questo era indirettamente questa la domanda perché proprio prendiamo prima due telefonate di Fabrizio va bene va bene certo non c'è dubbio non facciamo aspettare la casa pronto? buonasera dottor Selli oggi mi creda non l'avrei voluto chiamare assolutamente però purtroppo ti salta la mosca al naso intanto voglio fare un preambolo con lo senatore Augello che dice queste state ce la vedremo veramente chi ce la vedremo brutta sono sempre i cittadini perché voi politici ve la vedete alla grande e gli accordi con l'Europa li fate voi alle nostre spalle voi di tutti gli schieramenti che per i vostri interessi ci colpite ci castigate in tutti i mori uno e poi questa mattina Rossella Urru ricevuta da Monzi è andata all'aeroporto Napolitano l'ha ricevuta al Quirinale e che cosa ha fatto? è andata a fare la guerra una giornalista in prima linea che cosa ha fatto? 15 milioni di euro e tre o quattro terroristi di Al-Qaeda liberati quello che si dice magari sarà anche di più e fanno la festa però non ha conto l'occasione Napolitano e Montici e anche la destra il centro-destra di dire adesso vogliamo subito il Marò a casa perché loro sono stati mandati dal governo avete capito dal governo e poi quel signore che prima ha telefonato dice erano circondati non è vero signora grazie ci ha detto Vuto ma intanto le sue idee le sue idee le conosco in ogni modo per sua corretta informazione nella prossima settimana sarà ospite di questa trasmissione anche la vicepresidente del Parlamento europeo l'onore Orangeli parleremo anche dell'Europa ma ne potrei sarebbe comodo anche troppo per me parlarne con Augiello che quando era assessore al bilancio della Regione Lazio faceva queste battaglie per avere i fondi io voglio dire una cosa signora lei deve fare una certa attenzione nel distinguere questo è un mio consiglio non perché io sia per maloso le persone a cui si rivolge perché se lei fa questo gioco di dire i politici i politici non esistono esistono politici che fanno alcune cose esistono politici che ne fanno altre esistono politici censurabili politici che rubano politici che si comportano bene e quindi io non sono disponibile a venire in un programma televisivo e a farmi apostrofare nel modo in cui lei ha fatto perché non c'è un solo atto né nella mia storia né nella mia biografia che consente l'ipotesi che qualcuno si rivolga così a me detto questo non è tanto semplice il discorso sul tempo che ci attende però noi dobbiamo dirci la verità è evidente che se una persona ha un'indennità parlamentare può affrontare una crisi con molta più serenità di quanto non possa fare una persona che invece è in una situazione di difficoltà economica ma questo non vuol dire che noi non dobbiamo dire le cose come stanno le cose stanno esattamente come io le ho detto noi dobbiamo in questo momento spiegare alle persone anche a lei che non c'entrano nulla agli accordi in Europa che firmiamo noi o che non firmiamo noi c'è una grande crisi europea che è derivata da una grande crisi che c'è stata negli Stati Uniti che ha determinato più di disastri e più disoccupati nel mondo della seconda guerra mondiale e noi dobbiamo affrontare questa situazione è per questo che c'è il governo che c'è in questo momento altrimenti saremo già andati alle elezioni altrimenti io sarei molto più contento nel restituire la parola al popolo e non ho alcun piacere alcuna soddisfazione nel votare e alzare la mano insieme al centrosinistra e al Parlamento se questo si sta facendo è perché c'è una situazione grave io stavo cercando di spiegare la gravità di questa situazione ti ringrazio e ti chiedo scusa io ma la signora ogni volta che telefona ce l'ha sulla politica europea sugli estracomunitari che attribuisce no ma la signora ha tutti i diritti di essere cattivo e io ho il diritto di rispondere di rispondere a quello che vi dice non la dico non la dico troppo bene pronto? pronto? buongiorno buonasera a tutti voi buonasera soprattutto a Selli la signora mi ha preceduto volevo ringraziarla al dottor Selli per il ricordo dei Marò sembra che sia dimenticato io spero che possano venire liberati ho letto anche che non è stato tradotto in italiano l'accusa che viene fatta a questi due poveri ragazzi consegnati all'India ora io mi auguro che possano venire liberati e tornare in Italia con gli onori che ha ricevuto la stessa signorina Urro l'unica cosa che mi è dispiace da della Urro sono molto contenta che è stata liberata ma l'unica cosa che mi è dispiace è che ha detto che tornerà subito e volentieri lì bene bisognerebbe fargli firmare un qualcosa dove dice che si assume la responsabilità personale e non di tutti gli italiani di pagargli il riscatto al senatore vorrei augurare una sola cosa di fare le scelte oculate non possiamo dividerci senatore noi del PDL noi di Ex-AN noi di Ex-Movimento Sociale perché io sono molto più vecchia di lei dividerci su scelte personali e far vincere Bersani io la prego senatore per cortesia cerchi di appianare le situazioni per presentare un blocco unico contro la sinistra e poter mandarli a casa sarebbe la fine dell'Italia se vincesse Bersani se lo ricordi bene grazie senatore a chiederti dottor Senni e grazie faremo una domanda anche per il senatore Oggello sulla situazione politica all'interno del popolo della libertà la terza telefonata pronto? pronto buongiorno 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 dottor seri dottor mastro rosato onorevole io vorrei chiedere all'onorevole se finalmente si dovrebbe prendere una decisione seria si parla tanto di serietà ma in questo momento io in serietà io vedo poca in Europa si mettono seduti tutti i paesi e si decide se si deve andare avanti oppure dolcemente ne usciamo senza danni per nessuno o perlomeno con meno danni possibile perché non è possibile andare avanti con questo passo perché i paesi si stanno praticamente impoverendo troppo la Spagna succederà una rivoluzione forse noi non la facciamo ma la Spagna la farà io garantisco buongiorno buongiorno non ringrazio Fabrizio Mastro io chiedo all'assessore del nostro bilancio comunque sempre questioni di bilancio trattiamo perché il riferimento che faceva Ivano la risposta che lei ha dato Bondi è stato chiamato a fare l'elenco dei tagli però non è la decisione che spetta a Bondi fare i tagli allora io mi chiedo che margini ci sono in sede di commissione parlamentare di dibattito alla Camera al Senato perché questi tagli siano sempre meno orizzontali e sempre più mirati al contenimento della spesa ma senza pulire i servizi ai cittadini allora dunque intanto diciamo a chi ci ascolta che in commissione al Senato su questa faccenda della spenda dei revi ci sono attualmente migliaia di 2-3 mila vendamenti erano 1800 alla prima conta adesso mi pare che sono aumentati ottenermente quindi c'è una grande discussione Bondi non è al comune come decisore sui tagli ma come analista come diciamo consulente come persona che avendo fatto la proposta sui tagli che poi il governo ha attuato sta incontrando doverosamente ha incontrato prima la polverina adesso sta incontrando alle vanno i quali con i loro tecnici cercano di fargli apprezzare le difficoltà che provocano questi tagli e diciamo anche qualche possibile alternativa ovviamente ci sono margini per intervenire su questi tagli e quello su cui si sta lavorando in questo momento il problema come sempre è trovare le compensazioni quindi è molto presto per dire quale sarà l'orientamento del governo allo Stato c'è tutta un'attività emendativa che punta a dislocare meglio un po' meglio i pesi e a cercare anche di sanare alcuni paradossi facciamo un esempio se una cosa è efficientare le società che ricevono come si dice in house cioè che ricevono direttamente gli affidamenti dalle istituzioni pubbliche dalle regioni dai comuni eccetera un'altra cosa è creare una macchina infernale che può mettere 150-2 mila persone in mezzo a una strada nel giro di due anni e togliendoci peraltro un punto e mezzo di pil in termini di Montesalari quindi è chiaro che da questo punto di vista c'è un dibattito in corso c'è una disponibilità di ascolto da parte del governo questi incontri quelli da Polverini quelli di Alemanno servono anche a perimetrare diciamo possibili soluzioni alternative e sarà la prossima settimana quella decisiva con cui si inizierà il lavoro vero e proprio di analisi di questi emendamenti grazie un'altra domanda che mi veniva in mente dalla telefonata dell'ultima signora quando diceva l'unità del centro-destra per vincere le elezioni così come è giusto che sia per chi entra in competizione ecco la candidatura del presidente Berlusconi è stata accettata all'interno del popolo delle libertà da gran parte del partito però c'è il sindaco Alemanno che ovviamente non è l'ultimo all'interno di questo partito che dice invece dobbiamo andare alle primarie francamente il primo che l'ha detto sono stato io rispetto a Alemanno ma sono dei due problemi che non vanno confusi la scelta delle primarie è una scelta di metodo allora io che cosa voglio dire anche alla signora che prima è intervenuta basta leggere sui giornali le dichiarazioni gli interventi le interviste che io ho fatto e si scopre che la mia prima preoccupazione è quella di togliere benzina ai motori che si sono accesi e che vorrebbero una separazione più o meno consensuale tra gli ex a n poi gli ex a n chi? insomma poi parliamo di alcuni ex a n perché poi insomma a n è soprattutto Roma quindi diciamo alcuni ex a n non di Roma presumono di poter fare un partitino di destra e andarsene per conto loro ovviamente presumono di farlo d'accordo con Berlusconi che potrebbe assecondare alcuni che dentro Forza Italia vogliono che invece si ricostituisca Forza Italia la mia idea coincide esattamente con l'idea della signora cioè se noi dopo tutta questa vicenda separassimo a tre mesi dalle elezioni le due forze che hanno dato origine al PDL tornando alla situazione del 2007 non lo capirebbe nessuno sarebbe un segnale di disarticolazione di una centralità e andremmo incontro oltretutto candidando solo Berlusconi come se fossimo nel 2008 come se fossimo non avessimo alle spalle quattro anni anche di errori di problemi di domande che la gente ha fatto a cui non abbiamo saputo dare risposte questo a mio avviso come dice la signora si tradurrebbe in un disastro elettorale la mia idea è quella invece di fare un'altra operazione che è quella di creare un nuovo centrodestra completamente diverso da prima diverso intanto anche nella selezione del leader io non discuto che Berlusconi abbia il diritto di candidarsi discuto che sia utile legittimare questa aspirazione di Berlusconi che sarebbe la sesta volta che lo fa questa volta con un bagno di consenso popolare preventivo anche perché questo permetterebbe di far emergere qualche giovane che potrebbe essere un outsider un concorrente per non dare l'idea che noi ci arrocchiamo e diamo sempre la solita risposta a qualche cosa accade noi possiamo rispondere sempre che andiamo a Berlusconi a prescindere dal fatto che il mondo è totalmente cambiato intorno a noi per questa ragione noi abbiamo fatto un manifesto molti parlamentari lo stanno firmando lo presenteremo la stampa la settimana prossima lunedì martedì e il 26 luglio a Roma ci sarà un'importante manifestazione in piazza San Giovanni alle 8 e mezza dove spiegheremo che il PDL deve rimanere una centralità forte nel panorama politico italiano che non si devono affatto dividere N e Forza Italia e che tutto questo deve accadere perché saremo capaci di costruire un nuovo PDL che non ha più il sospetto di essere un partito di cooptati di essere un partito in cui molto spesso conta più la corte che le capacità politiche di essere un partito che non riconosce il merito di essere un partito che alla fine si nasconde sempre dietro la conna di Berlusconi e non riesce a risolvere le sue contraddizioni questa è la mia posizione rispetto a questo problema non a caso era per i congressi non a caso ti ringrazio pronto? pronto buongiorno 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 a un gero benvenuto a casa nostra e tanti auguri Ivano sto rientrato a casa bravo auguri però ho desiderio da poter parlare con te perché se c'è possibilità come hai detto se ti possa chiamare per 6-4 certo perché ho bisogno chiamami alle 4 chiamami alle 4 Giordani chiamami alle 4 sono in ufficio ti ringrazio ho l'altra telefonata pronto? pronto buonasera buonasera a lei dunque una signora mi ha anticipato sulla faccenda interna del PDL io pure sono vecchia e sono una vecchia MSAN compagnia bella e anche io desidero che non vi dividiate che non fate la fine di fine insomma se ne va lì a tozze e boccone a qualche parte secondo Imarò quello dovete proprio mettercela tutta perché io ho un cuore che mi sta andando giù piano piano signora il 2 il 2 di agosto il 2 agosto sarò io in trasmissione insieme a Tonino Torre che è un generale e ci sarà Cangemi e poi lei signor Selli non deve proprio chiudere niente sì lo so però ho capito abbiamo fatto una guerra c'è una stata fama abbiamo compagnia bella adesso ci abbiniamo però è dura signora è una cosa che ormai si sa sì sì è dura però non ci può fare niente però ci rallegra il sentire lei è qualcosa perlomeno da lei qualcosa sappiamo ma ecco è meglio grazie a qualche amico che ce l'ho anche io guardi eh non chiuderò mai vada avanti anche per i suoi collaboratori io non ma sì guardi oltre che i miei collaboratori i miei colleghi auguri poi sono però auguri senatore Ogello grazie l'appello che io faccio a Ander Ogello ma purtroppo lui fa il anzi fortunatamente a far parlamentare tengo un po' di notizia lo invito quando mi concedo un po' del suo tempo per parlare ma però come dice Ogello è dura eh io non voglio tornare qualche mese qualche anno purtroppo indietro ricordare quando c'era un consigliere comunale era solo a fare la lotta e ci ha dato la vita per quello per combattere quello per il quale lui nel quale lui credeva ma non lo voglio ricordare oggi perché riaprirei una piaga ad Andrea andiamo avanti pronto buonasera 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 prego buonasera a tutti voi dunque io sono d'accordo con le signori che hanno parlato ultimamente e la penso in quel modo però vorrei sapere una cosa un mal costume che c'è nei nostri uffici comunali uffici postali questi iniziano dal venerdì a fare il ponte questa mattina alle 11 già avevano finito gli uffici erano vuoti le circoscrizioni il centro di inizio non ti ripete il solito disco la solita musichetta questo non è questo è penale una cosa da denuncia penale signora 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 mi ascolta si mi dica ho incontrato una censura cavallari ho incontrato l'assessore cavallari che sta facendo il giro di tutti i municipi per vedere gli sportelli aperti e gli sportelli giusi ma è possibile ma dobbiamo ritornare ai tempi tedeschi che mettiamo anche il Stato a guardia di Uppini l'assessore cavallari l'assessore al personale del comune di Roma sta facendo il giro negli uffici per vedere quelli che sono aperti e quelli che sono giusi ma arriviamo a questo signora e purtroppo è vergognoso è vergognoso perché vengono pagati invece di darsi di rimboccarsi tutti le maniche per risollivare l'Italia e loro iniziano a fare il ponte dal venerdì ma sullo stipendio a fine mese non gli viene scalato questo è tutto il danno della comunità è giusto io avevo fiducia in Brunetta aveva detto si muoveva doveva fare poi non abbiamo visto più nulla adesso risponderà signora volevo fare gli auguri gli auguri al al suo ospite in bocca all'uvo e speriamo che le prossime lezioni ci saranno lezioni ma quando ci saranno lezioni no ci saranno la scadenza naturale scadenza naturale no dico solo una cosa la signora adesso obiettivamente tutto si può dire tranne che i provvedimenti di Brunetta non abbiano non abbiano ridotto l'assenteismo questo è è sicuro il problema è che intanto Brunetta non c'è più adesso ma a parte questo a me pare che la questione non sia soltanto avere la presenza dei che è doveroso ovviamente dei dipendenti pubblici negli uffici ma era la seconda parte della riforma Brunetta Brunetta aveva detto prendiamo il contratto di secondo livello e invece di dare i soldi sparsi a tutti trasformiamo questi soldi in obiettivi di produttività cioè li diamo solo a chi produce ora la grande crisi che ci ha colpito ha bloccato la contrattazione e quindi non è stato mai introdotto questo modello Brunetta ma non è certo colpa di Brunetta insomma contrattazione concertazione no mi ha fatto arrabbiare dopo le battute perché ormai sento l'appello del governo basta alle concertazioni che vuol dire? ma io non sono nella mia parte politica ci sono molti nemici della concertazione come è noto insomma ma io non sono tanto convinto che questa sia una bella parola d'ordine perché io penso questo è vero che la concertazione ha avuto degli eccessi in passato nel senso che noi abbiamo avuto anche i momenti di crescita governi che non andavano neanche a fare un decreto legislativo senza prima convocare il tavolo alla concertazione ci sono stati momenti in cui i sindacati hanno avuto un peso esorbitante insomma ora però penso pure perché quando c'è una crisi di questa portata e quando c'è un'onda di disoccupazione come questa sia in recessione cercare una coesione sociale prima di prendere un provvedimento sia doveroso insomma io penso che sia un momento in cui tutti devono concorrere a creare se no c'è ragione il signore finisce davvero scoppia non dito la rivoluzione perché non credo che capirà né in Spagna né in Italia però certamente possono esserci dei fenomeni anche di violenza sociale insomma diffusa quindi bisogna stare attenti da questo punto di vista io credo che ci debba essere un tasso possibile di concertazione un tasso possibile cioè bisogna perlomeno dare la possibilità alle forze sociali di sapere prima cosa si intende fare e di fare le loro proposte e poi di ascoltarle o comunque di non ritenerle come dire cogenti non ritenere un vangelo io penso che se questo governo avesse fatto questo con un po' più di attenzione non avremmo avuto il problema degli esodati per esempio ecco tanto per fare un esempio senti io ma dato che la conosci la cosa faccio un replay sono anni che sto denunciando un fatto noi nei nostri ospedali abbiamo assoluta necessità anche nel territorio di infermieri il Lazio il Lazio ha circa 8000 infermieri non idonei io scrivevo una lettera proprio a Brunetta visto che avevano si era riuscito ad ottenere la mobilità e allora io dico io non mando nessuno a casa di questi 8000 perché gente logora dal lavoro gente che allergica poi ho scoperto anche i vigi urbani sono allergici alla divisa al tessuto della divisa al tessuto della divisa vabbè io le dico così rendiamo anche un po' allegra la cosa allora dico questi 8000 dato che noi abbiamo bisogno di infermieri perché le sale operatorie l'assistenza in cortia non non brilla non brilla ma abbiamo 8000 infermieri che prendono l'indennità di infermieristica e mettiamone in altri siti troviamo nella mobilità le possiamo riciclare e assumiamo assumiamo infermieri idoni perché altrimenti andiamo a prendere l'Albania in Africa in Bulgaria in Romania perché non ci sono infermieri poi il paradosso dei paradossi ma sono segnali che io do a te nella speranza che poi tu vada a colpire chi è il padre di queste cose l'Università di Roma la laurea di infermieristica è a numero chiuso io ho provato a chiederle a frati gli ho detto scusa ma come fai a fare il numero chiuso quando c'è necessità di infermieri ci sono illustri professori che tu conosci bene sei amico come lo sono io che mi hanno detto io posso utilizzare la sala operatoria soltanto due volte al mese per il semplice fatto che io non ho infermieri non ho infermieri e poi le statistiche loro e non mie ce ne sono oltre 600 soltanto al San Camilo Forlani purtroppo Ivano il problema è che questo è il frutto di un eccesso di concertazione del passato ecco ho capito anche se noi assumessimo tantissimi infermieri noi dovremmo però prendere qualche precauzione per fare in modo che lo siano ancora tra 5-6 anni infermieri questo è il problema perché vanno a fare i segretari e partire no perché diciamo c'è un certo turnover c'è stato negli ultimi anni da questo punto di vista che è tutto interno all'amministrazione sanitaria e una cosa adesso non è che va drammatizzata però è accaduta sotto gli occhi di tutti insomma cioè noi abbiamo personale infermieristico che è diventato personale amministrativo da tutti gli effetti perché questo diciamo in passato è stato considerato un sistema per non dimentichiamoci che in passato poi la figura dell'infermiera era diversa da quella di adesso quello che noi oggi chiamiamo OTA un tempo era l'infermiere poi l'infermiere si è specializzato grazie a Dio sempre più come tu ricordavi ora ci vuole una laurea breve e quindi è cambiato complessivamente anche diciamo il ruolo di questa figura professionale però noi dovremmo come dire mettere mano ad un'attenzione particolare al comparto della sanità per fare in modo che si faccia quello che tu dici ma in un contesto di efficienza e di crescita di specializzazione all'interno di un comparto che non finisca presto o tardi per riconvertirsi in un altro perché altrimenti diventa una specie di gioco infinito questo insomma tutto qui la mobilità tu puoi intervenire perché c'era una proposta di Brunetta di mobilità no posso intervenire ma non posso intervenire su quella regionale perché dì deve intervenire da Volverini è la norma del titolo quinto pronto pronto mi senti buongiorno buongiorno a tutti anche a lei allora io sono stato giorni fa a municipio non ho visto tutto quello che dice la signora non l'ho proprio visto allora se vogliamo dire se non è stata soddisfatta di un servizio è un conto posso essere d'accordo ma gettare la cruce addosso ai dipendenti pubblici è diventato una moda non va bene perché anche l'onorevole Pornese ha fatto una riforma decisamente manchevole non ha toccato i dirigenti che prendono il stipendio decisamente superiore sono strapagati nominati dalla politica e lì c'è un politico e lo sa benissimo perché c'è una forbice tra il dipendente che lavora e tutti i giorni timbra il cartellino e il dirigente che all'esterno dice le volte e prende anche 10-20 volte di più e non sempre quel prezzo equivale al risultato ottenuto nel senso che non si hanno grazie a performance primo seconda cosa la riforma brunetta era dovuta a un sistema di revancismo nei confronti dei dipendenti pubblici come se fossimo noi responsabili di tutti i mali d'Italia non è vero se ci sono qualcuno di noi che non va venga perseguito i mezzi ci sono è come se non ci sono ma è molto più semplice invece generalizzare è un colpire che non lavorano e quello è il problema della pubblica amministrazione perché sono pochi quelli che non lavorano scusi tanto lei è stata dipendente pure lei lo sa benissimo che non erano tutte queste persone che lavoravano che lavoravano per niente c'è gente che lavora che tutta la mattina va a lavorare come c'è il collega che non lavora se le posso dire una cosa il collega che non lavora fa a lavorare a me e poi non è un problema guardi mi consenta questo è quello che io predico quotidianamente innanzitutto non generalizzare mai perché c'è gente che lavora ma questo lo ha detto anche il senatore Augello quando si parla di meritocrazia si parla di quello che sta citando lei sulla meritocrazia che poi però si è diminuito l'assenteismo che c'era fino a un po' di tempo fa e che danneggiava i lavoratori veri questo è un altro dato di fatto però io d'accordo guardi d'accordo che no un momento faccia finire allora quando ci fanno l'assenteismo se io sto male e sono stato male ho preso le ferie ha capito che ho preso le ferie perché mi sono consente ho capito ma lei allora se prima c'era no tanti colleghi miei fanno così sì quello che sta male che continua a sta male continuerà a sta male quello è il problema allora vogliamo risolvere vogliamo pagare meno i dirigenti certo certo vogliamo rispondere a una portapertura guardi sono d'accordo basta con queste nuove politiche l'onorevole sta lì sono d'accordo ma guardi l'onorevole l'onorevole risponderà guardi è interessato da questo aspetto no l'onorevole risponderà però 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 scusi dato che mi tocca dato che mi tocca personalmente io sono stato coinvolto io coinvolto da una persona assunta che dopo quattro giorni si è fatto fare un certificato medico è stata assenta 15 giorni dopo scaduti quei 15 giorni se ne è fatto dare uno di 20 giorni dopo questi 20 giorni si è fatto dare 30 giorni e sai qual era l'accusa la vuoi spiegare te qual era lo stato di ansia lo stato di ansia e allora io allora allora io dico non sparo nel mucchio però ma io mi do un malato scusi perché ci sono un stato di ansia il mio stato è stato che è dipendente se hai ricordato la storia dei cure termali ma i cure termali io grazie grazie arrivederci io me la ricordo bene se andavo nelle aziende dei cure termali se facevamo il tentimbro e non c'è stava neanche quindi io non generalizzo ma neanche voi generalizzo possiamo dire alcune cose dunque intanto siamo sempre alle solite cioè dipende chi parla chi è l'interlocutore io ho diretto come assessore e come sottosegretario strutture complesse io come assessore avevo le mie dipendenze credo circa tra le società e l'assessorato 170 dipendenti pubblici insomma a vario titolo io non ho mai preso un consulente esterno non ho mai nominato un dirigente esterno ho sempre nominato solo dirigenti regionali e quindi siamo alle solite con il discorso della signora di prima non è che io vengo a una trasmissione e una persona che non mi conosce può dirmi c'è un politico le nomine dei politici ci sono i politici che fanno le nomine e ci sono i politici che fanno funzionare le cose la nostra amministrazione Ivano lo ricordo perché lo celebramo in una trasmissione qui senza un consulente esterno ottenne il premio per aver speso il massimo possibile dei fondi comunitari dall'Unione Europea senza consulenti esterni quindi con dipendenti pubblici perciò nessuno deve venire a spiegare a me qual è il valore dei dipendenti pubblici se sono adeguatamente incentivati e guidati perché sono casomai io che posso dare qualche spiegazione sull'argomento ciò non toglie che però non si possono dire cose che non sono vere per esempio non si può dire che non sono stati fatti interventi sul taglio delle retribuzioni dei dirigenti pubblici perché l'ultimo è passato con un emendamento che tra l'altro ha fatto esplodere una polemica sui giornali perché è stato votato dal PDL dalla Lega e ha creato un problema nel rapporto nella maggioranza di recente secondo perché anche durante il governo in cui c'era sottoscritta la sottosegretaria Brunetta Ministro Tremonti come è noto quando fu fatto il blocco della contrattazione l'unico taglio che fece lo fece sulla retribuzione di quell'anno alla dirigenza tant'è che i sindacati della dirigenza pubblica parlarono di una specie di tassazione a persone che era stata fatta per i dirigenti infine non si può dare un giudizio sulla riforma Brunetta io stesso lascio il giudizio sospeso per una semplice ragione che come ricordavo prima la riforma Brunetta avrebbe fatto valere i suoi effetti soprattutto se fosse partita la contrattazione di secondo livello o integrativa come viene anche definita se il signore lavora in una struttura pubblica e ci fosse oggi la riforma Brunetta in atto stante che il signore ci dice non abbiamo motivo di dubitarne che lui è una persona che ha un'elevata produttività avrebbe la possibilità di tradurre quella produttività in un piccolo incremento della contrattazione accessoria insomma questo è il vantaggio che c'era in quella riforma erano poche le risorse forse non sarebbe servito non lo so però non possiamo dare un giudizio su una cosa che non è accaduta quello che possiamo dire per certo è che nella pubblica amministrazione ci sono grandi spazi possibili di miglioramento di efficientamento e che questo francamente non si può non si può negare perché altrimenti si direbbe una cosa che nell'opinione comune è chiara ed evidente a tutti grazie senatore pronto perché con l'Italia devono mangiare tutti la Spagna adesso poi questo debito enorme che io dissi un mese fa qui a Dottor Selli che ci ritroviamo sulle spalle non abbiamo possibilità ma per carità di Dio sarà una cosa atroce perché questi signori vanno lì firmano non so poi per chi per chi firmano chi è che vuole questo e non chiedono niente al popolo ma si potrebbe venire via tanto siamo belli che rovinati torniamo al tempo dell'autarchia chiudiamo la nostra Italia chiudiamola tutti ricominciamo da capo lei mi dirà che io sono pazza no Dottor perché io ho più di 80 anni abbiamo portato il ferro abbiamo portato le fedi abbiamo portato tutta la nostra Italia e siamo decisi a rifarlo questa cosa basta che usciamo da questo inferno di Europa signora ascolteremo anche il senatore giallo sull'euro pronto pronto buonasera a tutti a Selli al collaboratore e naturalmente al senatore due cose forse pure tre scusate la prima è adesso ho bacito sullo scandalo che da tempo sta denunciando Selli un bando emesso senza copertura finanziaria allora due sono le cose o l'assessore è connivense ed è andata via o l'assessore non sapeva nulla deve cacciare tutta la struttura che ha messo in piedi più al bando non ci sono scusanti seconda cosa e questa è relativa soprattutto al senatore leggo sul giornale che il Parlamento ha approvato il fiscal bene noi per 20 anni resteremo dedicati a una manovra continua di 45 miliardi a sto punto visto che si stanno esaurendo le risorse dei fondi dei cittadini praticamente le risorse date dai risparmi tra qualche anno che cosa farete per tirar fuori i 45 miliardi la vendita dei gioielli ma sì ma quelli vanno bene 8-20-30 mila miliardi finiranno e poi che facciamo alla scursale alla Germania vogliamo tirare fuori il nostro orgoglio leggo e di destra si ricorda la nostra identità grazie grazie per la risposta la terza termina poi il senatore Uccello pronto? 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 buongiorno 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 torselli volevo parlare con il senatore Augiello eh prego è qui il senatore io sono un suo votante ecco è una brava persona e la estimo sempre grazie volevo precisare una cosa stamattina ho telefonato al 06 06 06 al comune per essere sicuro della fissazione di questo bando caso dell'11 e l'impiegata ha detto sì sì è lecito però questa è una truffa è un reato sì antidoppio reato aggravato perché aspettiamo ancora aspettiamo il buono casa del dito io tengo la ricevuta la ricevuta mi raccomandata andate e ritorno che il bando parte nel 2009 come si permettono di fare queste cose qua e darselo la verità qualcuno è colpevole di questo qua no? non possiamo dire di questo io 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 mi fa integrare una domanda di un cittadino quando faceva riferimento ai terribili 45 miliardi che per 30 anni sono modernato dovremmo non è esattamente questo allora ecco chiariamo intanto se è così e poi questo dovrebbe essere affrontato senatore con la vendita del patrimonio e se è così non siamo in ritardo rispetto alla vendita del patrimonio allora sì questo lo vediamo dopo allora dunque intanto spieghiamo a chi ci ascolta di che cosa stiamo parlando perché l'identità e la destra rispetto al fatto che ci sono questi problemi significa in primo luogo essere efficienti e capaci nel leggere le cose di cui stiamo parlando perché ci vuole competenza perché dobbiamo rispondere alle persone delle decisioni che assumiamo il fiscal compact non è una forca caudina che è stata imposta da un paese cattivo all'Italia il fiscal compact è il tentativo di rispondere ad una situazione che vede aggrediti i debiti dei paesi più indebitati perché non ha molta importanza se io devo pagare 45 miliardi per adeguare l'equilibrio di bilancio o se devo pagare per i rendimenti delle obbligazioni con cui mi pago il debito nel senso che il punto di fondo è che la soluzione che i 45 miliardi non si pagano non c'è questo è quello che dobbiamo spiegare alle persone perché se io invece di pagare il costo delle emissioni del mio debito come lo pago adesso lo pago il doppio altro che 45 miliardi mi vengono e non solo ma questo mi trascina i tassi e interessi delle banche e le imprese pagano il denaro il doppio quindi non è che possiamo proprio dire qualunque cosa inoltre il fiscal compact non dice affatto che dobbiamo pagare 45 miliardi in anno il fiscal compact dice che noi dobbiamo avere un meccanismo di svalutazione del debito progressivo al netto che ricomprendi in quel meccanismo il tasso di inflazione anno in realtà quindi le cifre se noi fossimo sostanzialmente a zero di crescita e non fossimo in recessione non pagheremo mai 45 miliardi è chiaro che se noi siamo a quasi tre punti percentuali di recessione è chiaro che paghiamo 45 miliardi questo è il punto ora la domanda di fondo che noi dobbiamo farci e dobbiamo fare alle persone che devono decidere in questi momenti è ma qual è l'alternativa che si fa di bello d'alternativo ora quando la signora che ovviamente ha tutto il mio affetto la mia stima perché una signora si commuove raccontando aver regalato il suo anello annunziale alla patria merita comunque la nostra stima il nostro amore direi addirittura però signora il problema di fondo è che noi viviamo in un mondo che è oramai interdipendente complessivamente un paese come il nostro che non ha materie prime non può chiudersi nei propri confini mettere i tazzi e sperare di farcela non ce la faremmo così come l'altra signora che diceva perché non usciamo il signore anzi piano piano dall'euro per la semplice ragione che noi uscendo dall'euro avremmo due risultati piuttosto preoccupanti il primo che si dimezzerebbero la mattina dopo i valori dei nostri risparmi nelle banche ma il secondo che è anche più grave è che si raddoppierebbe il costo del denaro questo è il punto vero perché noi negli anni in cui abbiamo avuto l'euro in tutti questi anni siamo riusciti ad avere un costo del denaro bassissimo tanti tra noi hanno comprato caso l'hanno comprato ai figli il debito anche il credo al consumo la gente si è potuta indebitare per fare degli acquisti nelle abitazioni per comprare gli elettrodomestici ci sono state una serie di possibilità oggi uscire dall'euro significa mettersi in una situazione difficilissima senza poi una prospettiva chiara guardate in Grecia che è successo nell'immediato quando sono arrivati i provvedimenti più duri c'è stata una grande avanzata delle forze più strane devo dire che predicavano l'uscita dall'euro eccetera quando poi dopo la gente ha capito che cosa sarebbe accaduto uscendo dall'euro non formandosi un governo ed aggravandosi la crisi moltiplicandosi i disoccupati eccetera c'è stato un ritorno degli elettori a sostenere invece il centrodestra che in Grecia rappresenta diciamo il partito europeista quindi bisogna riflettere su queste cose il fatto che la situazione sia difficile significa che noi dobbiamo fare un'opera di servizio cercare di spiegare le cose però le persone devono responsabilmente scegliere il male minore in questo momento guardate che se noi sbagliamo in questo momento rischiamo di compromettere i prossimi 25 anni di questo paese e quindi non dobbiamo sbagliare dobbiamo mantenere la mente lucida dobbiamo parlare dobbiamo confrontarci dobbiamo discutere ma dobbiamo fare quello che è giusto ultima telefonata pronto? 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 buongiorno pronto? buongiorno buongiorno dottor Selli buongiorno prego eh senta buonasera a lei e al dottor Augelli Augello senatore senta io senatore Augello sì esatto senta volevo intervenire per il fatto della telefonata che vedete quel dipendente comunale che si era tanto risentito per i controlli eccetera eccetera senta io non penso che se era una persona legge al dovere si doveva risentire anzi si doveva risentire al contrario se gli mandavano i controlli e prendevano qualcuno che effettivamente non lavorava e lui doveva fare il doppio lavoro per il suo posto poi se questa persona che non c'è al lavoro lo prendono e gli fanno delle sanzioni amministrativi o addirittura lo licenziano ci sono purtroppo i sindacati che lo proteggono e vanno per tutto per inserirlo al lavoro ecco questo fatto si deve ringrazio rispondere senatore per le conclusioni c'è due minuti dai qualche bella notizia ha detto che si va a volare in una scadenza normale con quale sistema questo è curioso io personalmente sempre il 26 luglio sera a piazza San Giovanni oltre a fare una manifestazione per dire che devono decidere gli elettori di centrodestra chi sarà il candidato a premio e dobbiamo rimanere tutti insieme prendendo tutti insieme questa decisione lo stesso lo stesso assolutamente entro ottobre secondo me si devono fare le primarie mentre diremo questo diremo anche se è possibile che visto che la legge elettorale mi sembra oramai l'unica soluzione perché non credo che il grande riforme noi approveremo adesso una riforma costituzionale che introduce il semipresidenzialismo ma non mi sembra che i nostri i nostri avversari e colleghi di maggioranza in questo momento del Partito Democratico abbiano poi intenzione di approvarla anche loro addirittura sono usciti dall'aula per non approvarla quindi dovremo fare una legge elettorale alla fine e noi chiederemo di fare una legge elettorale che restituisce ai cittadini il diritto di scrivere se vuole votare per me il nome di Augello se vuole votare per Ivano Selli il nome di Ivano Selli su una scheda perché mi sembra che questo in un momento così difficile sia un diritto da riconoscere alle persone anche per questo il 26 luglio sera alle 20 e 30 saremo a Piazza San Giovanni davanti alla Basilica bene visto che si stava leggendo il bando stavo leggendo il bando adesso mi impegno a scoprire le ragioni di questo bando e da ex assessore a bilancio sa benissimo che si fanno i bandi se ci stanno i soldi accetto se era senza copertura l'allora l'assessore Augello l'avrebbe revocato in autotutente io ringrazio il senatore Augello mi auguro sempre non sicuramente durante per agosto ma a settembre ricaderlo fra noi e darci qualche lezione perché ci vuole dare qualche lezione grazie grazie a voi ci vediamo lunedì in questo mondo di latri c'è ancora un gruppo di amici che non si arrendono mai grazie a voi grazie a voi